Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'area del cerchio. Per capire come calcolare l'area del cerchio facciamo un esperimento anche questa volta e adesso vi spiegherò come fare. Tracciamo un cerchio e sovrappongo al cerchio 4 quadrati con il lato uguale al raggio. In questo caso il lato, quindi il raggio del cerchio, è di 2 cm. Ovviamente la superficie dei quadrati è maggiore di quella del cerchio, infatti i quadrati hanno tutti un pezzetto che avanza fuori dalla circonferenza. A questo punto elimino un quadrato dal cerchio, quindi ne rimangono 3 di quadratini. Poi però prendo la parte esterna al cerchio, cioè quella che avanza fuori, quella dei 3 quadrati rimasti naturalmente, e la ritaglio tutta a pezzetti, perché questi pezzetti li uso per ricoprire il settore circolare che è rimasto scoperto, ed è rimasto scoperto perché io avevo tolto un quadrato. Ovviamente con questi pezzettini dovrei essere riuscita a coprire tutto il settore che era scoperto. Allora i matematici, dopo vari esperimenti di vario tipo, con cerchi di grandezza diversa, quindi con raggio anche diverso, quadrati diversi, ma hanno scoperto che l'area del cerchio è poco più grande dell'area di 3 quadrati con il lato uguale al raggio del cerchio. poco più grande perché io avevo tappezzato il mio cerchio con i 4 quadrati, però un cerchio l'ho tirato via. E quella parte che è rimasta scoperta l'avevo tappezzata, diciamo così, con i pezzettini che avanzavano fuori dei 3 quadrati. Quindi, e riuscivo a tappezzare tutto il cerchio. Quindi posso dire che l'area del cerchio è poco più grande dell'area di 3 quadrati, perché non erano solo 3 quadrati, ma c'era anche un pezzettino in più. Perciò, per calcolare l'area del cerchio farò così. Per prima cosa trovo l'area di un quadrato. Come si fa a trovare l'area di un quadrato? Si fa lato per lato. Ma abbiamo detto che in questi quadrati il lato è uguale al raggio, perciò raggio per raggio. Poi però lo moltiplico, questa area del quadrato. Abbiamo detto che per coprire il quadrato ce ne vogliono 3 di quadrati più un pezzettino che corrisponde a 14. Allora, moltiplico questa area per 3,14. Quindi la formula finale sarà raggio per raggio, che era l'area di un quadrato, per 3,14, cioè per 3 quadrati più un pezzettino. La formula quindi è area del cerchio uguale raggio per raggio, per 3,14. Se voglio scrivere le lettere, A maiuscolo, che vuol dire area, perché se lo scrivo minuscolo è apotema, area uguale raggio, R minuscolo, per R, sempre minuscolo, per 3,14. Dici.